E' stato illustrato a Rende nell'Aula Caldora dell'Unical di Arcavacata il dossier statistico Immigrazione curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, uno studio che uscirà sotto il patrocinio dell'UNAR Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un dossier dell'ultimo decennio delle dinamiche dell'immigrazione nel territorio calabrese che ha fatto registrare una crescita esponenziale del fenomeno affrontando la questione anche con buone pratiche di accoglienza. Il territorio calabrese quindi non solo come protagonista di espulsioni e rispingimenti alla frontiera ma anche di accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo in particolare riconoscendo nel 2006 lo status a oltre 1000 richiedenti. Tutto ciò è emerso dal dossier 2014 presentato da Roberta Saladino, dottore di ricerca in storia economica, demografia, istituzioni e società nei paesi del Mediterraneo e dell'Università della Calabria e referente scientifico del Centro Studi e Ricerche IDOS per la Calabria che ha curato il capitolo Calabria rapporto emigrazione 2014. 4,4% è sul totale della popolazione quindi se pensiamo che siamo più di 2 milioni invece gli immigrati sono soltanto 86 mila quindi l'incidenza è bassa. Si riscontra un incremento rispetto all'anno precedente più del 17% e questo è dovuto all'incremento delle donne e dei bambini quindi si tende a far rilevare sempre di più i ricongiungimenti familiari. La Calabria così ha dismesso prima i panni di terra di emigrazione e poi quelli di territorio di accoglienza e transito per indossare le vesti di un luogo di inserimento stabile per molti cittadini stranieri che lasciano le proprie terre in cerca di migliore fortuna. Lo dice il dossier che man mano sarà presentato in tutte le altre province calabresi. Anche rispetto ad altri territori in percentuale c'è un aumento, un incremento delle presenze di immigrati sia regolari che irregolari perché il dossier UNAR, oggi UNAR, IDOS stima anche le presenze irregolari quindi è un fenomeno in crescita che sta assumendo, sta portando anche della trasformazione della nostra società. Bisogna tenere in considerazione che come altre regioni del sud come la Sicilia e la Puglia soprattutto in questo periodo la Calabria è investita anche da questi flussi irregolari e quindi questo stato di emergenza dell'accoglienza alla quale noi stiamo partecipando sia da parte dei territori localmente con grande generosità sia a livello centrale nonostante le difficoltà anche di natura finanziaria che l'accoglienza di migliaia di persone comporta.